Grandi emozioni all'Oro Ciuffenna, è arrivata la Coppa del Tour de France, scusate se è poco, davvero un grande appuntamento. Vedo anche la sala gremita, evidentemente c'è grande voglia di ciclismo. Sindaco Merenobotti assieme al presidente della Loresi 1919 Luciano Gambini. Sindaco, questa grande posizione per il ciclismo non tramonta mai qua nel suo paese. No, direi, noi siamo il paese del ciclismo, la nostra è una strada importante per il ciclismo e avere questa opportunità di contribuire anche noi in piccolo, o fa parte anche noi in piccolo, della partenza del Tour de France ci fa un grande onore. Una Coppa bellissima, ma c'è anche la maglia gialla di Rinaldo Nocentini e di altri, immagino, no? Sì, non poteva mancare Rinaldo Nocentini a una festa all'Oro Ciuffenna, lui di qui, di Montemarciano, e lo voglio ringraziare pubblicamente perché è stato molto disponibile. Quando gli abbiamo telefonato ha detto vengo e vi porto la maglia, quindi diciamo doppia soddisfazione. Avere il trofeo del Tour de France e andare al vincitore del Tour de France qui a presentarlo insieme alla maglia gialla, insomma, per me, io dico che tanta roba ci dà tanta grande soddisfazione. Ovviamente sappiamo, Sindaco, sarà in Toscana, l'apertura, Firenze, poi l'Emilia Romagna, insomma, un tour italiano quest'anno. Un tour sicuramente italiano e sicuramente soprattutto nel segno di Gino Bartali, noi abbiamo avuto la notizia che ci mettevano a disposizione il Toto Rofeo proprio il giorno della memoria e noi sappiamo benissimo quanto Gino Bartali abbia contribuito anche a quella che è stata la sua esperienza in quel periodo buio e quindi credo veramente sia un completamento. Toscana, Bartali, il giorno della memoria e poi la Sette Ponti e l'Oro Ciuffena con l'OS e l'Oresi 1919. Si configura sempre di più un paese del ciclismo. Rinaldo, 2009 questa maglia gialla è stata tua al Tour de France, quindi siamo a loro a commentare la ripartenza quest'anno da Firenze, sarà una grande soddisfazione, però te tante soddisfazioni con questa maglia gialla. Sì, 2009 al mio primo tour sono stati otto giorni veramente fantastici, indimenticabile e sono contento che quest'anno il Tour parte da Firenze, nella nostra terra, nella nostra regione e oggi siamo qui a loro per fare la presentazione di questa cosa qui.